Kikiriki 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 e un ciao ciao a tutti belli brutti Bazzetta del mezzo 908 numero 1 and 8 amici della cittina siamo in una chiesa e un tizio ci va a confettare perdonami signore perché ho peccato non ti preoccupare figliolo io ti assolvo signore scusa sì dimmi figliolo posso chiederti una cosa certo per te cos'è un milione di anni circa un minuto e un milione di euro un centesimo dio potresti darmi per favore un centesimo sì aspetto un minuto grazie a tutti